L'associazione Cocosport e il comune di Via Grande organizzano per il secondo anno consecutivo l'iniziativa Regala un Natale. Una maxi raccolta di giocattoli fatta a tappeto nelle scuole tra le associazioni per distribuirli ai bambini meno fortunati. Un modo per unire tutta la comunità via grandese abbattendo ogni distinzione di censo e combattendo concretamente le difficoltà economiche che attanagliano tante famiglie. Siamo veramente orgogliosi di aver ripreso questa seconda edizione. L'anno scorso è stato un grande successo. Abbiamo reso felici tanti bambini che non hanno la possibilità di avere dei giocattoli a Natale. La partecipazione da parte dei bambini soprattutto nelle scuole è stata veramente grandissima. Abbiamo raccolto tantissimi regali. I bambini sono andati a casa con tantissimi doni. Non a livello di una testa ma veramente tanti. Io ringrazio soprattutto le associazioni che collaborano con noi e l'assessore alle politiche giovanili, l'assessore Carmelo Gatto, che insieme all'associazione GoGo Sporting hanno avuto l'idea di far partire questa manifestazione.